Quando i nazisti hanno rastrellato il quartiere ebraico, mio marito, i miei genitori, i miei nonni sono stati portati via con la forza. Sono saltata da una finestra. E cosa ti ha fatto decidere a saltare? È stata la mia zia materna. Lei mi ha avvertita, mi ha detto che dovevo scappare se fossi mai stata in pericolo. Ed è quello che ho fatto. Non so cosa ne sarà di me. Poche ore ho perso ogni riferimento. Una sola certezza. Oggi è il 14 agosto 1944. E ho fatto 12 giorni tra viaggi, mezzi e attese per arrivare qui, a Ravelsbrook. Siamo finiti a mano nostre, non a uomini. Ciao, Sia! Nell'istante in cui fumo obbligate a deporre i vestiti, perdemo anche ogni rapporto col mondo esterno. Il nostro corpo non ci apparteneva più. Nell'istante in cui fumo obbligate a deporre i vestiti, non ci apparteneva più. Nell'istante in cui fumo obbligate a deporre i vestiti, non ci apparteneva più. Nell'istante in cui fumo obbligate a deporre i vestiti, non ci apparteneva più. Ci apparteneva più o pesarami persone che es Cappellate in cui fumo obbligate Giuliana? Milan... Solo, Lian. Si vede la luce da fuori Sei impazzita Non si spegne la candela Siamo ebri anche noi Non devi dimenticartelo mai In questa condizione di prigioniere Non dimenticarsi delle proprie tradizioni Assume un significato Molto importante È un gesto di ribellione contro la ferocia nazista È un atto di resistenza Che ci fa sentire ancora vive Siete impazziti tutte? Forse non ce la faremo Ma almeno moriremo da donne E dai, bre E non da donne senza l'uomo Siamo di numeri, siamo donne senza l'uomo Siamo donne senza l'uomo Abbiamo perduto il nome Abbiamo perduto il nome Abbiamo perduto il nome Bianca Maria Abbiamo perduto il nome Basta, non farti del male Basta Calma Basta, non farti del male Basta, non farti del male Io lo so che hai paura Che sei spasata, sopraffatta Ma l'unica maniera per mantenere le nostre identità È rimanere unite Mi denunciate? E che cos'è che denunciate? Che hai rubato delle pezze che avete rubato voi in sartoria prima di me? Oppure denuncio io il vostro piano di fuga? E così vi fucilano insieme al... Basta Ma come siamo diventati? Come la SS? Eh? Volete creare il terrore denunciandovi l'una con l'altra? Non vi sono bastate le decine di delatori? No Ma che senso ha stare qua? A resistere? A soffrire? Se siamo diventate così disumane? La soluzione non è denunciarci l'una con l'altra Perché non ci hai detto che sei in cittura? Non ti fidi di noi Però come al solito Ci trascina con sé nei suoi guai Se le SS scoprissero che ti stiamo aiutando a nascondere le gravidanze Ci ammazzerebbero tutti Allora non mi aiutate Tanto lo so da tempo di essere da sola Niente mi impedirà di mettere al mondo il mio bambino Per cui ti stai a fare? Per cui ti stai a fare? Tu sei solo un giudice Tu sei un niente Non posso te tuare quando sempre ti voglio Il fatto è che l'ebraio per il tedesco non è un semplice strumento di lavoro, è lui stesso la materia prima. Stupide bocca inutili. Così ci definiscono.